di esserci in questa conferenza stampa perché penso che il lavoro che abbiamo portato oggi al Consiglio dei Ministri, penso che le norme che abbiamo licenziato oggi al Consiglio dei Ministri siano delle norme molto importanti. Siamo stati a Caivano la scorsa settimana, lo ricorderete, siamo stati a Caivano, abbiamo preso degli impegni precisi dopo l'ennesimo fatto di cronaca, uno dei tanti fatti di cronaca che in particolare in questo caso riguardano minori, che si svolgono in quelle che sono state definite negli anni delle zone franche, zone nelle quali lo Stato piano piano ha scelto negli anni di indietreggiare, che sono state abbandonate a loro stesse. Siamo andati lì con l'idea di provare a fare di quello che oggi viene raccontato come un problema, un possibile modello per il futuro. Ci siamo chiesti cioè se una concentrazione di energie, di attenzione costante, continuata, di risorse, di opportunità, di risposte, di strumenti potesse cambiare la faccia di quel territorio. Ce ne sono diversi di territori che versano nelle stesse condizioni. Abbiamo deciso di prenderne uno e di provare a dimostrare che se ci si mette tutta la propria buona volontà le cose possono cambiare davvero. È una sfida non semplice. Quello che oggi noi abbiamo portato in Consiglio dei Ministri sono le norme che ci consentono di dare vita ai primi impegni che abbiamo assunto e quindi è stato raccontato. Abbiamo assunto l'impegno chiaramente di una maggiore presenza delle forze dell'ordino, al netto della bonifica del territorio. Avete visto già qualche giorno fa il primo intervento massivo delle nostre forze dell'ordine su quel territorio, ma presidio più forte quotidiano delle forze dell'ordine sul territorio fino ad arrivare ai vigili urbani, una delle tematiche che c'erano state poste quando siamo stati a parlare con gli attori del posto. Il segnale di un'alternativa attraverso la presenza di centri polifunzionali, di centri sportivi, al disagio, al degrado, all'abbandono. Questa struttura enorme, 25 mila metri quadri, il centro del fine ha completamente abbandonato secondo le cronache, un luogo dove potrebbe essere appunto avvenuto il duplice stupro, chiuso da anni, diventato una discarica. Noi ci siamo presi l'impegno di riaprirlo e di riaprirlo entro la primavera prossima. con l'aiuto del genio militare, con l'aiuto di sport e salute, con l'aiuto delle fiamme oro della Polizia di Stato, le quali intendiamo, come abbiamo detto, affidare la gestione del centro e poi risorse per biblioteche, sale multimediali, insomma luoghi nei quali i giovani possano trovare una alternativa al niente, l'intervento sulle scuole con maggiori disponibilità per i docenti che ci lavorano. Io ho trovato alcuni docenti assolutamente straordinari. Va aiutato anche il loro lavoro e quindi le norme che riguardano specificamente Caivano sulla scuola, ma che poi riguardano, dirò qualcos'altro, scuole di molte aree disagiate. L'apertura delle scuole il pomeriggio. Cioè abbiamo messo in campo i primi provvedimenti, abbiamo stanziato i primi 30 milioni di euro. Non pensiate che il Governo lo considera sufficiente. Perché quello che c'è nel decreto oggi è anche un commissario straordinario per Caivano. Il commissario straordinario di Caivano serve a mettere in campo un piano di generale riqualificazione del Comune. E quindi verranno stanziate anche tutte le altre risorse che servono a vincere questa sfida, con un lavoro che per me durerà qualche anno, ma che vedrà una presenza cadenzata del Governo. Io ho ribadito oggi al Consiglio dei Ministri che vorrei che con una presenza cadenzata tutti i Ministri, sottosegretari del Governo, si regassero a Caivano e portassero i loro mattoni, aggiungessero i loro piccoli mattoni in questa ricostruzione. Quindi c'è un lavoro molto più ampio da fare. Penso al tema degli appartamenti, delle case popolari. Lì non è mai stato, ci sono a Parco Verde 7500 appartamenti che sono edilizia residenziale popolare, nei quali non c'è neanche un censimento di chi ci abita dentro. Che vuol dire anche che possiamo immaginare in molti casi come sono state assegnate. Anche lì è un lavoro che va fatto non solo di censimento, ma anche quando è necessario di riqualificazione, di demolizione, di costruzione. Insomma, inviamo un Commissario che possa fare, parlando con tutti gli attori, anche locali, anche il Comune Commissariato, ma insomma l'area metropolitana, la Regione Campania. Io ho parlato anche col Presidente De Luca, quando sono stata giù, che insieme facciano un lavoro che durerà molto tempo. Ma avevamo detto anche che occupandoci di Caivano noi avremmo messo in campo delle norme che inevitabilmente avrebbero impattato anche sul resto d'Italia e sulle altre zone che si trovano nella stessa condizione. Ed è quello che abbiamo fatto oggi con una serie di norme che, come è stato detto dai Ministri che mi hanno preceduto, si occupano di combattere il disagio, la criminalità e particolarmente il tema della criminalità giovanile. Che è una materia con la quale noi ci stiamo confrontando sempre più frequentemente, perché negli stessi giorni in cui ci recavamo a Caivano noi abbiamo assistito a Roma al tentativo di aggressione nei confronti di Don Antonio Coluccia, che pure io ho incontrato. Abbiamo visto a Napoli il terribile omicidio di Giovan Battista Cutolo, io ho incontrato oggi sua mamma Daniela, voglio dirle che sono davvero molto molto colpita dalla forza di questa donna, dalla sua reazione di fronte alla cosa peggiore che ti possa capitare nella vita. Ho trovato una donna che vuole combattere e credo che anche per queste persone qui no delle risposte vadano date. Noi siamo intervenuti già anche qui in tema di presenza dello Stato, tra l'altro faccio mezzo passo indietro, voglio anche dire, l'ho già detto la mamma, che per Giovan Battista Cutolo che muore in quel modo incredibile nel tentativo di sedare una rissa, noi come Governo intendiamo proporre la medaglia d'oro al valore civile, è una delle richieste che la mamma ha fatto, la considero assolutamente perfettamente doverosa, però al di là di questo poi bisogna ovviamente dare dei segnali. Allora noi su questo fronte abbiamo inteso operare con sostanzialmente tre leve. Il tema del presidio e della bonifica del territorio e quindi l'operazione ad alto impatto a Caivano, l'operazione che oggi è stata condotta contemporaneamente a Roma, Torbella Monaca e a Napoli nei quartieri spagnoli che ha visto impegnati 800 operatori delle forze dell'ordine ovviamente in operazioni di identificazione, sequestro di armi, sequestro di droga, eventuali relativi arresti, sempre con risultati latitanti, insomma con risultati che sono importanti anche perché importante è la diffusione e l'impatto che la criminalità purtroppo dimostra avere. La seconda leva dicevamo è una stretta sulla criminalità minorile perché si sta diffondendo a macchia d'olio tutti i fatti dei quali noi stiamo parlando vedono come protagonisti dei giovanissimi. tutti i fatti dei quali parliamo vedono come protagonisti dei minori. Le norme che noi abbiamo approvato, voglio dire anche questo, sono state molte, poi io tornerò su alcune di quelle che considero principali, ma le norme che noi abbiamo approvato sono per lo più frutto dell'interlocuzione che a Caivano abbiamo avuto con chi di questi temi si occupa quotidianamente. I giudici minorili per esempio ci hanno posto una serie di questioni che noi oggi abbiamo scelto di affrontare, quindi è anch'esso in continuità con un lavoro che abbiamo iniziato con la nostra visita a Caivano. Le misure, dicevamo, sono molte, c'è il tema dell'estensione del DASPO, c'è il tema dell'introduzione dell'ammonimento anche dai 12 a 14 anni, qui ci torno perché ho letto un po' delle ricostruzioni un po' bizzarre, vogliono sbattere in galera i bambini di 12 anni, l'ammonimento non prevede assolutamente questo, l'ammonimento prevede che per reati gravi ci sia un ammonimento e convocazione dei genitori e i genitori possono essere chiamati in causa, in questo caso con una ammenda, per la mancata, vogliamo dire vigilanza nei confronti di questo minore, ma non c'è il tema di sbattono in galera i bambini di 12 anni. C'è sicuramente il tema che prevediamo l'arresto in flagranza di reato anche per alcuni reati per i quali non era previsto fino ad oggi dai 14 ai 18 anni, perché se un ragazzo di 15 anni gira armato con una pistola carica non si può arrestare e io francamente penso che questo sia non più affrontabile nell'attuale condizione nella quale noi ci stiamo trovando, così come c'è il tema della custodia cautelare in carcere, le cui maglie vengono allargate perché ieri non era prevista nel caso di rischio di fuga e oggi viene prevista, vengono aumentate le pene per il porto di arma bianca, però c'è una cosa che voglio dire, tutte queste norme vengono viste come norme prevalentemente repressive, non sono solo norme repressive per come la vedo io, sono anche norme diciamo così di prevenzione, perché se l'uso dei minorenni si è allargato a dismisura in questi anni nelle pratiche criminali è anche perché chiaramente nel caso dell'utilizzo da parte della criminalità organizzata di questi minorenni le conseguenze sarebbero state in molti casi diciamo, non ci sarebbero state particolari conseguenze. E quindi chiaramente nel tentativo di metterli, di mettere questi ragazzi giovanissimi, di tutelarli maggiormente abbiamo per paradosso finito per esporli di più, perché si è fatto scudo dell'utilizzo di minori sempre più giovani ed è qualcosa su cui noi dobbiamo cercare di porre un freno. Così come il tema del ruolo dei genitori in queste dinamiche è un tema che torna, cioè penso che la previsione che è stata introdotta nel caso di una indagine per mafia si viene a scoprire, si scopre che un minore viene diciamo messo di fronte alla riunione dei capi mafia o al confezionamento della droga, quindi viene introdotto nelle dinamiche criminali, io penso che in quei casi si debba segnalarlo al giudice minorile e che il giudice minorile debba poter operare anche fino a togliere la potestà genitoriale a queste persone. Esattamente come accade sul tema della dispersione scolastica, perché poi la terza, il terzo grande diciamo filone è quello che riguarda l'educazione, cioè dall'altra parte offrire alternative, potenziare il ruolo degli educatori, potenziare il ruolo della scuola, questa fa parte delle misure immaginate dal Ministro Balditara, l'Agenda Sud coinvolge 2.000 scuole, un investimento di 250 milioni, tenere aperte le scuole pomeriggio, potenziare gli istituti, la loro capacità formativa, potenziare l'organico, cioè rafforzare la presenza dello Stato, la capacità dello Stato di compensare anche dove c'è un'assenza, però tutto questo funziona se poi i bambini a scuola ci vanno. E qui quando io sono stato a Caivano vi confesso che non sapevo che nel caso di violazione dell'obbligo scolastico in Italia era previsto che tu pagassi 30 euro, cioè se non mandavi tuo figlio a scuola la tua pena era pagare, ma non pagare 30 euro al giorno, pagare 30 euro. Io penso che questo, voglio dire, sono tornata a Roma e con i Ministri ci siamo messi a lavorare e oggi insomma diciamo diventa delitto, quindi ti fai fino a due anni di carcero e valutazione attraverso il giudice minorile di revocare la potestà genitoriale. Tema che da anni discutiamo, perché lo abbiamo discusso, è una materia che per esempio è stata discussa spesso rispetto al tema dei Rom, ma che per esempio oggi riguarda, ci dicono le associazioni che si occupano in Italia della condizione delle donne islamiche, riguarda sempre di più per esempio le bambine e le ragazze che in Italia crescono all'interno di famiglie islamiche, c'è una dispersione scolastica sempre più elevata e io penso che questa materia vada affrontata diciamo con determinazione, vada affrontata con determinazione perché in Italia è diciamo previsto l'obbligo scolastico e l'obbligo scolastico deve essere garantito e allora ha un senso anche tutto quello che noi facciamo per ovviamente potenziare il ruolo della scuola, per aprire la scuola, per trasformarla sempre di più in un ruolo di socializzazione. Poi c'è la questione che citava il ministro Roccella che riguarda il tema della pornografia, io quando il ministro Roccella ha citato l'età in cui diciamo si stima oggi il primo accesso ai siti pornografici tra 6 e 7 anni ho visto qui la faccia di qualche mamma terrorizzata, è più o meno la faccia che ho fatto io quando ho scoperto questo dato e il ministro Roccella citava oggi in Consiglio dei Ministri anche dei casi nei quali nei processi diciamo per stupro a danni di minori i giudici si ponessero anche il tema del rapporto con la pornografia, cioè del rapporto con una lettura del sesso raccontata dalle piattaforme della pornografia che costruisce un immaginario nel quale per esempio la donna è sempre consensiente nella quale alcune pratiche che sono estreme vengono vendute come pratiche diffuse e quindi alcuni giudici per esempio sono posti il problema di dire ragazzi che diciamo hanno questo rapporto con la pornografia sono carnefici o non sono carnefici nel momento in cui replicano lo stesso modello qui è una materia che sta impattando pesantemente, molto più di quanto forse noi che siamo la prima generazione di genitori diciamo che hanno figli completamente digitali, stiamo forse comprendendo però è una materia che anche quella va affrontata ad impatto ora noi abbiamo inserito queste norme sul parental control che sono ovviamente insomma la cosa minima che si può e si deve fare lì c'è tutta l'altra materia che riguarda il tema del blocco dell'accesso dei minori e la certificazione dell'età dei minori che è un tema sul quale noi ci siamo interrogati è materia molto complessa sulla quale diciamo si interrogano i governi di mezzo mondo perché è una materia che ovviamente entra molto anche nella privacy e anche degli adulti per cui questa è una materia che sulla quale diciamo ho visto che ci sono anche forze politiche che hanno presentato delle proposte insomma è una materia sulla quale io non considero giusto intervenire per decreto però è una materia che spero le forze politiche, il governo ma anche il Parlamento possano rafforzare poi in sede di conversione del decreto legge o con altri provvedimenti e questa è una materia molto difficile ma molto molto importante l'altra questione sulla quale velocemente mi soffermo riguarda in particolare le norme presentate al Ministro Fitto perché credo che insomma l'impianto di quello che accade oggi in rapporto al Mezzogiorno d'Italia sia molto molto importante quindi ovviamente noi riorganizziamo, insomma il Ministro Fitto non so esattamente cosa abbia detto perché aveva già parlato ma insomma l'avrà già detto riorganizziamo il fondo di sviluppo e coesione istituiamo questi accordi di coesione per realizzare una alleanza vera tra i vari livelli istituzionali ma anche una capacità dei vari fondi che noi abbiamo a disposizione di non sovrapporsi e di lavorare invece l'uno accanto all'altro per cercare di realizzare più interventi possibile ci poniamo il problema non solo di spendere queste risorse ma di farlo in tempi certi con responsabilità che vanno rafforzate in capo a chi queste risorse deve spenderle e con poteri sostitutivi che eventualmente vengono esercitati per garantire che queste risorse vengano spese perché i soldi a volte non sono mancati e mancata soprattutto la capacità di spenderli in modo efficace quindi ci siamo interrogati su come si facesse a spendere questi soldi in modo efficace rafforziamo la capacità amministrativa noi abbiamo qui preferito al tema delle assistenze tecniche che sono queste collaborazioni un po' mordi e fuggi invece una assunzione finanziata con le risorse europee di 2200 funzionari prevalentemente nei comuni e nelle regioni perché noi abbiamo bisogno di rafforzare la capacità amministrativa particolarmente dei comuni ma anche delle regioni dopodiché io sono contenta della norma che riguarda le aree interne sono circa 4000 comuni oggi in Italia a rischio spopolamento vanno aiutati vanno aiutati con norme di rafforzamento della loro capacità amministrativa vanno aiutati garantendo servizi per i cittadini che abitano in quei comuni vanno aiutati con opere e infrastrutture vanno aiutati anche sostenendoli nella realizzazione delle opere sono contenta della norma che portiamo su Lampedusa io parlo con il sindaco di Lampedusa da qualche mese su questa materia Lampedusa chiaramente è una isola che è più di tutte ha pagato l'emergenza dei flussi migratori illegali e credo che anche a questi cittadini delle risposte vadano date quando oggi ho annunciato al sindaco i provvedimenti che avevamo preso con uno stanziamento di 45 milioni di euro e non solamente mi ha detto il più importante intervento sull'isola che sia stato fatto per la verità sono stati fatti anche degli interventi in passato anche qui però a volte le risorse sono state stanziate e poi non sono state spese quindi è molto importante per noi riuscire a farlo e voglio anche dirvi che noi ci siamo occupati di Lampedusa ma tra i lavori, tra i grandi obiettivi che ha questo governo c'è anche il tema delle isole minori perché ci sono oggettivamente 240.000 cittadini circa che oggi sono in Italia cittadini serie B e anche questi cittadini vanno aiutati in un lavoro che stanno facendo il ministro Musumeci con gli altri ministri competenti e che porteremo con un altro provvedimento e poi soprattutto la zona economica speciale zona economica speciale è una grande opportunità una grande vittoria è una grande opportunità noi siamo riusciti e voglio ringraziare con questo il ministro Fitto a negoziare con la Commissione europea la sostituzione diciamo così di attuali otto zone economiche speciali che abbiamo nei retroporti in Italia con un'unica zona economica speciale che coinvolge tutte le regioni del Sud Italia zona economica speciale vuol dire semplificazioni molto importanti vuol dire incentivi a chi investe molto importanti cioè crediti di imposta, di contribuzione poi il ministro Fitto vi avrà dato diciamo gli specifici ma vuol dire avere la zona economica speciale per tutto il mezzogiorno vuol dire che oggi a livello internazionale il mezzogiorno d'Italia può competere al pari con tutti gli altri e può competere a darmi pari con il resto della nazione quindi essere maggiormente in linea con il resto della nazione io la considero, chiaramente sono cose che sembrano tecniche ma non è tecnica la considero una misura molto importante molto significativa e che finalmente può dare a mezzogiorno d'Italia perché poi ci sono le priorità nella definizione delle infrastrutture cioè c'è la zona economica speciale porta con sé una serie di benefici che servono a fare soprattutto questo cioè a rimettere in linea un territorio e quindi è stato un lungo lavoro che è stato fatto sono assolutamente contenta che sia stato portato a casa quindi ci tenevo e chiudo e mi fermo chiedendovi scusa perché questa conferenza stampa è un teleton delle conferenze stampa però insomma ci tenevo chiaramente per il lavoro che abbiamo fatto che si comprendesse ecco il senso di quello che stiamo facendo e che anche a costo diciamo di perderci 10 minuti di più grazie siamo a disposizione apriamo le domande Francesco Becchis del Messaggero sì buonasera Presidente allora torno sul decreto le chiedo se anche da madre se lei ritiene che sia risolutivo davvero il sequestro dei telefoni cellulari per un minorenne per evitare episodi di violenza come quelli che abbiamo visto e poi ancora cosa pensa lei personalmente dell'idea di rendere imputabile anche un dodicenne perché nella maggioranza sembrava che ci fosse anche questa richiesta poi si è deciso di non farlo perché un quattordicenne sì e un dodicenne no grazie no in realtà nella maggioranza non è mai stata discussa l'imputabilità del dodicenne quindi è un tema insomma che non ci siamo proprio posti francamente sul tema dei telefoni cellulari la considero una misura utile se inserita in una serie di altre misure utili cioè noi siamo andati molto nel dettaglio se lei prende la singola misura che è stata presentata oggi chiaramente può sembrare perché poi alcune materie sono di diciamo di prevenzione alcune materie sono penali alcune materie sono di procedimento penale quindi sono estremamente tecniche tutto insieme secondo me può dare un segnale importante la singola misura presa da sola probabilmente no però noi abbiamo preso quello che ci dice per molta parte quello che ci veniva diciamo segnalato da appunto chi se ne occupa quotidianamente poi dal lavoro che è stato fatto al Ministero della Giustizia poi dal lavoro che è stato fatto al Ministero degli Interni abbiamo messo tutti insieme non vuol dire che non servano che non diciamo non possano servire domani altre norme se ci saranno altre norme che ci convincono non abbiamo come abbiamo dimostrato oggi alcun problema a portarle avanti vogliamo diciamo affrontare questa questione consapevoli che non si affronta come dicevamo solo sul piano della repressione solo sul piano diciamo securitario però è una parte di questo lavoro e va fatta e va fatta perché noi siamo di fronte a una situazione che è sfuggita dal controllo e qualcosa bisogna fare per forza Fausto Carioti Libero Presidente buonasera dopo l'operazione ad alto impatto a Caivano lei disse che era solamente l'inizio io vorrei capire se lo stesso si può dire anche dal punto di vista della produzione normativa cioè il pacchetto fatto oggi è un pacchetto ad alto impatto al quale poi ne eseguiranno altri glielo chiedo anche perché le stesse ha sottolineato più volte la complessità della materia e mi pare che sono rimaste delle cose in sospeso ad esempio una cosa è la verifica dell'età per l'accesso ai siti porno sa meglio di me che Don Patriciello le chiese addirittura mi correga se sbaglio di oscurare l'accesso ai siti porno per i minorenni almeno così ha raccontato lui e un'altra cosa è il parente a controllo sono due cose parecchio diverse quindi volevo capire se dopo questo primo pacchetto appunto anche d'alto impatto anche mediatico inevitabilmente seguiranno altre norme più ponderate che tengono conto della complessità della materia grazie guardi intanto le norme io le considero molto ponderate francamente e come dicevo non posso darle una risposta precisa a questa domanda nel senso è più o meno quello che dicevo al collega se servono altre norme questa diciamo sul tema del riconoscimento dei minori sulla pornografia ho detto io che bisogna continuare a lavorare perché è una materia che coinvolge anche per esempio la Gcom, la privacy cioè anche alcune autorità autoriti che su una materia del genere devono essere tenute in considerazione no, quando io faccio l'oscuramento dei siti per i minorenni chiaramente prevedo riconoscimento facciale per l'accesso riconoscimento facciale per il minorenne prevede anche riconoscimento facciale per il maggiorenne e quindi diciamo si aprono una serie di dinamiche che vanno valutate sul piano normativo ma è una materia sulla quale dobbiamo continuare a lavorare non considero che quello che abbiamo fatto oggi possa essere sufficiente su questa materia come probabilmente sul resto cioè è possibile che sia sfuggito qualcosa o che qualcosa si debba implementare perché non abbiamo problemi a farlo come non abbiamo avuto problemi a farlo oggi abbiamo cercato di chiaramente concentrare anche per il tema della produzione normativa che ci viene spesso posto tutte le norme molte norme e lo abbiamo fatto proprio perché cerchiamo di lavorare per organicità di materia ma se ne servono altre se ci verranno segnalate se ce ne verranno segnalate altre anche diciamo da chi opera in questo campo quotidianamente non abbiamo problemi ad andare avanti cioè questo è un lavoro sul quale chiaramente abbiamo deciso di avviare una strada molto precisa Silvia Gasparietto dell'Ansa Buonasera Presidente vado fuori tema perché in questi giorni stiamo parlando tanto anche di manovra e visto che si sta per aprire diciamo la stagione di negoziato con Bruxelles come ogni anno volevo capire se lei condivide le parole dei suoi vice premier nei confronti del commissario Gentiloni Salvini ha detto che a volte sembra straniero in sé che italiano e Tajani si è augurato che non si schieri coi rigoristi se avete anche questo timore Tommaso Ciriaco di Repubblica Telegrafico volevo chiederle se dopo l'intervista di Giuliano Amato e il ribattito che ha seguito ha sentito il Presidente Macron o intende sentirlo per chiedere la desecretazione degli atti su Ustica grazie guardi no non ho sentito Manuel Macron che immagino vedrò tra domani e dopo domani perché come sapete sono in partenza per per il G20 di Nuova Delhi dopodiché ho seguito insomma il dibattito ho anche già detto che cosa penso nel senso nessun problema da parte mia a porre diciamo sul piano diplomatico questioni nei confronti dei nostri partner ricordo quando in altre conferenze stampa diciamo mi veniva posto il problema inverso e cioè che non dovevo porre le questioni con una certa forza però queste cose si fanno sulla base di fatti cioè di elementi oggettivi che io ho chiesto a Giuliano Amato pubblicamente nel senso una cosa è dire io credo che una cosa è avere elementi perché se ci sono gli elementi sono io la prima a porre una questione però le questioni quando si parla delle istituzioni della Repubblica e del governo di una nazione si pongono sulla base di elementi che devono essere oggettivi per cui sto aspettando di avere quegli elementi oggettivi e quando dovessi avere quegli elementi oggettivi si preoccupi guardi non si preoccupi che non sono io la persona che ha problemi a porre le questioni ai propri partner per difendere il proprio interesse nazionale la segretazione si figuri noi l'abbiamo fatta per cui noi l'abbiamo fatta e per quello che riguarda lo Stato italiano abbiamo problemi io per carità non ho problemi a chiederlo però le devo dire che oggettivamente sulla base di il credo che c'è anche un fatto come posso dire di no di credibilità del governo che pone questa questione perché gli altri governi non ti pongono questioni sulla base delle interviste nelle quali si dice credo che le pongono soprattutto ripeto nel dibattito ufficiale tra nazioni sulla base di elementi che devono essere un po' più oggettivi per cui io spero di avere degli elementi che mi vengono posti per fare una cosa credibile Giannina Landau class CNBC Buonasera due domande veloci la prima le volevo chiedere ieri il governatore Visco ha detto che c'è stato un rallentamento del credito e uno dei temi forti che stanno chiamando le imprese è quella della stretta del credito il credito in crunch voi avete parlato anche di provvedimenti sui crediti deteriorati visto che questo mercato è bloccato quindi stanno aspettando anche i mercati una risposta da questo tipo se avete appunto delle attenzioni a riguardo e poi ieri l'Ox e poi lunedì anche la commissione europea daranno quasi probabilmente insomma delle stime a ribasso per la nostra economia se questo vi spaventano e che impatto avranno anche sui vostri piani grazie guardi sul tema dei crediti deteriorati ne abbiamo parlato ne stiamo parlando allo stato attuale non ci sono provvedimenti come posso dire in rampa di lancio per quello che riguarda il rallentamento dell'economia l'avevamo tutti gli anni analisti lo avevano previsto riguarda una dinamica della quale diciamo l'Italia si trova coinvolta per trascinamento e quindi sicuramente insomma ne dobbiamo tenere conto ed è la ragione per la quale insomma anzi è la valutazione alla base di tutto quello di cui stiamo cominciando a discutere in tema di manovra finanziaria insomma concentrare le poche risorse delle quali disponiamo per ragioni che abbiamo ampiamente discusso su quello che offre il maggiore moltiplicatore in termini economici quello che ha l'impatto maggiore quindi di totalità insomma un lavoro che abbiamo cominciato sono tutte enormi questioni però credo che anche all'interno di questi obiettivi che citiamo sia più utile il provvedimento il singolo magari provvedimento di alto impatto piuttosto che molti provvedimenti diffusi poi stiamo stimando ovviamente abbiamo messo insieme una serie di ipotesi e le stiamo stimando per capire quali sono quelle diciamo che hanno che ci offrono diciamo la risposta migliore Andrea Pira Milano Finanza Buonasera Presidente ieri c'è stato un intervento del del suo predecessore Mario Draghi che auspicava che si arrivi a una riforma del patto di stabilità e crescita secondo lei si riuscirà a cambiare il patto entro l'anno oppure si rischia veramente che tornino le vecchie regole sempre legato un po' ai temi di manovra c'è il nodo del superbonus si parla adesso di restringere comunque quantomeno solo agli erediti più bassi cosa intendete fare quindi sulla misura come funzionerà grazie guardi 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 non siamo sul tema del superbonus non siamo ancora non siamo entrati nel dettaglio di ulteriori diciamo modifiche ancora io posso solamente insomma ribadire che l'eredità che consegna sul piano dei conti pubblici è un'eredità oggettivamente pesante perché era stata fatta una stima iniziale di 36 miliardi e mezzo arriva oggi a oltre 93 supererà i 100 miliardi il bonus facciate aveva una stima iniziale di 5,9 miliardi è costato 25 la spesa raggiunge quota 147 miliardi se consideriamo l'intero complesso dei bonus edilizi senza contare i 12 miliardi stimati di truffe irregolarità anzi non stimati scusate finora accertati all'Agenzia d'entrata e alla Guardia di Finanza nel 2023 l'impatto del solo superbonus sulle casse dello Stato ha già superato i 19 miliardi potrebbe raggiungere i 30 al 31 dicembre e nel 2024 prevede una situazione più o meno simile quindi è una realtà con la quale oggettivamente bisogna fare i conti perché 100 miliardi per una misura che al netto sicuramente insomma anche di alcuni elementi di beneficio che può aver avuto insomma nell'economia immediati però insomma la misura che alla fine impatta per oltre 100 miliardi di euro per efficientare meno del 4% delle case con un utilizzo stimato soprattutto per le seconde case quindi sui redditi più alti voi immagino abbiate presente chi tra voi soprattutto si occupa diciamo di legge di bilancio economia che cosa si può fare con 100 miliardi di euro perché poi anche qui insomma siccome leggo delle dichiarazioni un po' bizzarre è certo che le leggi finanziarie siamo buoni tutti a farle quando ci stanno i soldi cioè è quando diciamo le risorse scarseggiano che si dimostra quanto vali no e obiettivamente quelle risorse probabilmente spese sulla sanità spese sui redditi spese sui salari spese sulle famiglie avrebbero dato alla nostra economia un diciamo un boost anche maggiore di quello che può aver dato la misura che era ripeto una misura che è pensata diciamo ragionata in un'altra maniera non al 110% aveva insomma sicuramente poteva avere anche e aveva la sua la sua razio però per come è stata per come si è poi diciamo dispiegata soprattutto con il tema delle cessioni è diventato questo è diventato questo e oggi ovviamente impatta sulla nostra capacità di di operare gli italiani voglio dire giudicheranno insomma le scelte che sono state fatte e quelle che si faranno ovviamente sul tema della riforma il patto di stabilità chiaramente è io sono assolutamente convinta che sia di fondamentale importanza riuscire a modificare le regole della governance prima che rientrino in vigore i vecchi parametri e se non si riuscisse in ogni caso porrei la questione di prorogare le attuali regole perché penso che in questo contesto con la politica che sta facendo la banca centrale europea aggiungere il rientro dei parametri pre-covid produrrebbe insomma siete più preparati di me diciamo produrrebbe insomma una contrazione per economie che sono già in sofferenza e non solamente per quella italiana molto molto importante quindi noi stiamo cercando ovviamente partecipiamo a tutte le discussioni cerchiamo soluzioni voi sapete che la grande questione che l'Italia pone riguarda soprattutto il tema degli investimenti e io insisto nel dire che se l'Unione Europea si dà delle priorità strategiche cioè se noi abbiamo stabilito che la grande priorità strategica per l'Unione Europea era la transizione verde la transizione digitale e quindi tutti i fondi Next Generation EU dedicati prevalentemente a questo genere di investimenti e dall'altra parte chiaramente abbiamo il tema della difesa che si dispiega con la guerra in Ucraina poi le regole che si decide di portare avanti devono tenere conto di queste strategie perché non si può chiedere da una parte ai governi di fare investimenti e poi far pagare diciamo così il fatto che si segua diciamo che si segua quella strategia per cui è il tema che stiamo ponendo siamo aperti disponibili diciamo però bisogna correre sicuramente e credo che sarebbe drammatico un ritorno alle vecchie regole Giacomo Salvini del Fatto Quotidiano Sì Presidente buonasera io torno sul tema delle violenze sessuali che sono oggetto anche del dibattito di attualità e anche di questo decreto e volevo leggerle una frase visto che abbiamo avuto anche dei casi di cronaca oltre a quello di Caivano anche a quello di Palermo se vai a ballare e se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi eviti anche di incorrere in problemati perché poi il lupo lo trovi questa è una frase lei conosce bene l'ha pronunciata dal suo compagno Andrea Gianbruno volevo sapere se la condivide grazie sono diciamo è un concetto quello di non abbassare la guardia di cercare il più possibile rimanere presenti a se stessi di fare del proprio meglio per non mettersi per non diciamo mettersi nella condizione di appunto consentire a questi animali di fare quello che vorrebbero fare penso che insomma questo sia un consiglio che molti genitori darebbero ai propri figli occhi aperti e testa sulle spalle il più possibile mia madre me l'ha sempre detto non ci trovo nessuna giustificazione per chi stupra una ragazza ci trovo il fatto di dire ragazze dovete stare attente perché purtroppo è un fenomeno che vediamo ogni giorno esistono queste storie occhi aperti e testa sulle spalle questo ci vedo dopodiché Pausa Fusani riformista sì buonasera quindi lei sicuramente quando si dice che no vuol dire no lei su questo punto è d'accordo mi riallaccio a questa domanda il suo punto di vista la sua opinione rispetto alle violenze rispetto a una ragazza che esce in minigonna o beve non può farlo no la domanda era un'altra però visto che è stato sollevato questa ma è quello che ho detto no ragazzi perché io mi scusi è quello che ho detto la prego chiedo scusa no e no certo che no no e no dopodiché ovviamente e c'è libertà di uscire con le minigonne e anche di bere una birra di uscire con le minigonne Claudia Fusani la prego veramente benissimo chiedo scusa ma mi era sembrato opportuno veramente cioè vabbè che io sono quella che vuole le donne un passo indietro agli uomini cosa no ma infatti mi vede come sto proprio un passo indietro ok però la prego cioè vi prego vi prego perché diventa imbarazzante anche voglio dire no ma è un punto importante perché c'è stata anche una sentenza purtroppo che ha messo in dubbio questa cosa e allora lo chiede al giudice che ha fatto la sentenza perché io non l'ho mai messa in discussione ho chiesto al Presidente del Consiglio di ribadire questo punto perché può parte che lo faccia lei la domanda comunque era un'altra mi scuso per questa parentese ed è questa quindi io invece torno su questo decreto e mi chiedo visto che queste norme penali nuovi reati allargati eccetera entrano in vigore subito mi chiedo se entrano in vigore subito il fatto che gli orari di scuola devono essere aumentati che il dopo scuola deve essere aumentato che gli insegnanti devono andare subito in quelle periferie e mi chiedo se i 16 miliardi del PNRR che non sono stati spesi che sono appesi da qualche parte potranno essere potranno tornare alle periferie da cui sono stati tolti grazie la parola ai ministri l'occasione sui 16 miliardi del PNRR è utile perché siccome discutiamo spesso di questo magari senza avere degli elementi di riferimento il governo italiano ha proposto alla commissione europea una modifica del piano nazionale di ripesa e resilienza che prevede la possibilità di spostare degli investimenti che in alternativa se lasciati dove sono hanno due grandi problemi il primo problema è quello della impossibilità di rendicontare con le regole del PNRR e quindi noi rischiamo di non avere gli interventi ammissibili in questo senso lo stadio di Firenze e di Venezia forse vi ricorderanno se posso terminare faccio una cosa completa arrivo anche alle scuole e agli asili che è un fatto a cui è molto importante anche fare questo riferimento quindi lo stadio di Firenze e di Venezia se voi ricordate bene sono stati interventi che sono stati esclusi dal PNRR e quindi abbiamo dovuto porre rimedio sulla base di quell'esperienza abbiamo posto rimedio complessivamente alla vicenda del PNRR perché a giugno del 2026 se gli interventi non sono completi al 100% c'è la revoca siccome nel PNRR ci sono 67 miliardi di euro di progetti precedenti alla nascita del PNRR che sono stati inseriti nel PNRR e che non hanno nemmeno lontanamente l'idea delle regole di rendicontazione del PNRR per evitare che tutta questa montagna di soldi faccia esattamente la fine dello stadio di Firenze e di Venezia abbiamo messo in campo un meccanismo che consente uno non di definanziare di spostare su altre fonti di finanziamento due di poter portare a casa questo tipo di progetti per quanto riguarda il tema degli interventi in modo particolare degli asili nido voglio sottolineare perché è stato un tema del quale abbiamo parlato per mesi il governo taglia 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 oggi nel decreto Caivano il ministro Valditara ha proposto di utilizzare delle economie del proprio ministero per mettere in campo un bando per fare nuovi asili nella proposta di modifica del PNRR che non taglia nulla lo sottolineo ne abbiamo proposto 900 milioni di euro ulteriori per gli asili sa perché perché se avessimo lasciato tutto come stava noi avremmo avuto un risultato non raggiunto nell'attività e nella realizzazione dei posti per asilo per la semplice ragione che le previsioni dei bandi precedenti non tenevano conto di una serie di osservazioni della Commissione Europea quindi non ci consentivano di raggiungere questo risultato quindi la situazione è esattamente l'opposto di come viene proposta e di come viene rappresentata cioè quello che era un fatto negativo lo abbiamo trasformato in un fatto positivo e questo emerge anche dall'approvazione delle modifiche che abbiamo proposto per esempio sulla quarta rata che la Commissione Europea ha approvato e che oggi sono in fase di definizione e l'occasione di questa domanda è utile anche perché su questo tema si rischia di parlare diciamo senza avere gli elementi concreti certi che fanno parte sia delle regole del PNRR che dello stesso programma e quindi penso che sia utile attenersi al quadro reale della situazione con Monica Guerzoni del Corriere della Sera costruiscono gli enti locali i soldi li mette il PNRR però gli asili costruiscono gli enti locali raggiungono certi obiettivi se ci sono anche delle norme che consentono il raggiungimento di questi obiettivi ora noi abbiamo introdotto nel decreto di febbraio delle norme di forte semplificazione che sono state molto apprezzate da Anci più volte il Presidente De Caro ha apprezzato queste norme e vi voglio solo citare alcune cose i tempi delle aggiudicazioni sino a un milione di euro che prima impiegavano qualcosa come quattro anni grazie a queste norme sono scese a sette mesi i tempi per l'aggiudicazione da un milione a cinque milioni di euro che prima impiegavano cinque anni sono scesi a nove mesi se noi abbiamo raggiunto se gli enti locali hanno raggiunto se i tempi di aggiudicazione sono stati oltre il 91% a giugno cifra assolutamente inimmaginabile qualche mese prima e proprio grazie a queste norme di semplificazione vi cito un altro dato abbiamo consentito a Invitaglia di come dire accorpare i vari appalti proprio perché Invitaglia ha le strutture per fare ha la possibilità di realizzare questi appalti molto più velocemente bene pensate che circa il 18% di quel 91% è stato realizzato grazie a questa norma senza questa norma saremmo stati molto al di sotto del 91% quindi oggi abbiamo previsto l'utilizzo di 700 milioni di euro di economie nostre per raggiungere questi obiettivi ma grazie a queste norme di semplificazione noi abbiamo consentito di realizzare un panorama di aggiudicazioni che sarebbe stato assolutamente impensabile perché ripeto non basta mettere a disposizione dei soldi bisogna anche mettere a disposizione le regole perché quei soldi possano essere ben impiegati concludiamo con Monica Guersoni del Corriere della Sera Presidente buonasera vorrei chiederle ancora questo quanto la preoccupa la continua rivalità quotidiana tra i due vice premier e leader del secondo e terzo partito della maggioranza per la stabilità del governo in vista della manovra e anche delle elezioni europee non mi preoccupa particolarmente la considero una come si dice dialettica assolutamente normale per forze politiche che sono coese che hanno legittimamente le loro differenti sfumature che rivendicano legittimamente ciascuna ci metto anche fratelli d'Italia le loro peculiarità soprattutto nel momento in cui si va verso una campagna elettorale che come lei sa è una campagna elettorale proporzionale e quindi ha un senso che per ciascuno segnalare le proprie peculiarità ma io sono assolutamente certa che non ci saranno ripercussioni di alcun tipo per il governo tutti sanno che noi abbiamo una responsabilità molto forte che gli italiani ci hanno dato e che abbiamo e possiamo dare a questa nazione qualcosa che non ha visto negli ultimi anni che era una una stabilità una continuità una visione la realizzazione di quella visione e la capacità di essere giudicati davvero al termine del lavoro che si è fatto e questo fa la differenza anche nella nostra capacità di dimostrare cosa valiamo perché poi ovviamente se noi avessimo cinque anni per fare il nostro lavoro il giudizio su di noi sarebbe un giudizio nel bene e nel male compiuto però è una grande occasione e questo lo capiscono tutti così come io credo che le due cose possano stare assolutamente insieme e cioè le sfumature i colori dei partiti che compongono la maggioranza ai quali io sono molto attenta che considero giusti legittimi e da tenere in assoluta considerazione e il lavoro coeso che noi facciamo che alla fine ci vede lavorare bene fondamentalmente perché abbiamo una visione di fondo sulle grandi questioni mi è capitato di dire in passato e lo ribadisco che dal mio punto di vista la solidità e la coesione in un governo si vede dalla velocità con la quale il governo è in grado di prendere le decisioni e noi siamo oggettivamente un governo che va a Caivano e la settimana dopo tira fuori un decreto legge molto corposo al quale hanno partecipato praticamente tutti i ministri senza difficoltà per cui non mi preoccupa particolarmente poi ovviamente bisognerà insomma monitorare fare attenzione insomma vedersi molto vedersi forse anche di più di quanto non ci siamo visti anche con i gruppi della maggioranza in passato appunto ieri abbiamo inaugurato queste riunioni cadenzate anche per scambiarci i punti di vista su quello che accade per raccontare meglio anche il lavoro che fa il governo ma non sono preoccupato quindi grazie buonasera grazie a tutti buonasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti